Buonasera da Italia Zelanda 8, Delta Ecopapa, Alfredo in compagnia di Luciano, Italia 8 chilo lima lima e questa sera, allora, Luciano mi sta spiegando come selezionare le valvole in un amplificatore L4B che è stato restaurato, quindi stiamo... Luciano che stai facendo adesso, spieghi un po'? Adesso diamo potenza. Luciano che cosa può comportare la vicinanza all'amplificatore quando diamo potenza? Non c'è schermatore, può influenzare il... Ah, il cellulare? Il cellulare. Ah. Adesso Luciano che stai facendo, spieghi un po'? Andiamo mandando in potenza la valvole. In questo caso, fornisce 370 watt. Mhm. 370 watt. Quindi come quella precedente? Si potrebbe accoppiare già un po'? Si potrebbe accoppiare già un po'? Non vedete solo quando assorbe la corrente? Si potrebbe accoppiare già un po'? E' andato bene questa. Diceno spieghiamo per chi è novellino, su questo, su questa valvola, su questo cappuccio, quante volte ci sono? In questo momento sono 1650 watt. Quindi è una tensione... La tensione è bassa, poi la tensione alta arriva a 2400 watt. Spieghiamo che è molto pericoloso. Anche mille volti sono pericoloso. Ci sono tensioni mortali. Non si scherza. Non ci si può improvvisare il tecnico. Giusto Luciano? Questa roba qui bisogna sapere dove mettere le mani. Altrimenti si rischia di morire. Buonasera da... Salutiamo a tutti quanti Il Z8 DEP Il grande tecnico Luciano Il Z8 Kilo Lima Lima Buonasera a tutti